Salve, ben trovati all'appuntamento di oggi, mercoledì 15 dicembre. Aspettando l'esito degli annunci della Fed, le borse europee vivono una seduta con percentuali abbastanza contenute, ma c'è comunque una leggera tendenza rialtista. Nel frattempo segnaliamo che l'Istat ha rivisto al ribasso il dato sull'inflazione di novembre, che ora è del più 3,7%. Passando ai grafici, il Futsimib finisce per guadagnare lo 0,41% in una seduta vissuta interamente sopra la linea della parità. Il valore di chiusura si attesta a sopra quota 26.650. Più timido il DAX, che ha poco più di un'ora dalla chiusura, si era addirittura affacciato in territorio ribassista. In questo caso il progresso finale è dello 0,15%. Negli Stati Uniti cresce il dato sulle vendite al dettaglio a novembre, più 0,3%, dopo il più 1,8% di ottobre. Tuttavia l'andamento a Wall Street è con prevalenza di vendite. Il Nasdaq sta perdendo addirittura un punto percentuale. Meno ampio il passivo del Dow Jones, che al momento lascia sul campo lo 0,15%. A piazza pari i riflettori puntati su B per banca, miglior titolo del Futsimib, con un balzo del più 6% in seguito alla sua offerta su banca carriage, che accelera con un guadagno a due cifre. In ottima forma anche i farmaceutici troviamo ricordati e di Asorin, a ridosso dei due punti e mezzo di crescita. Favorito anche Amplifon, che si riporta su nuovi massimi mensili su livelli di fine novembre. Accelera dopo metà pomeriggio Moncler, che registra un ottimo più 2,57%. Segnaliamo inoltre l'exploit della prima ora di generale in seguito alla presentazione del nuovo piano industriale. Successivamente subisce una correzione che porta il titolo assicurativo a poca distanza dal valore di ieri. Tenaris è la maglia nera del Futsimib in scia al calo del greggio. Il titolo perde oltre 3 punti percentuali. Per lo stesso motivo Saipem e Deni si trovano tra i peggiori dell'estino milanese. Segue A2A sotto almeno 2 su nuovi minimi settimanali. Finito l'effetto del nuovo piano su Unicredit, che dopo svariate sedute favorevoli ritraccia a meno 1,79%. Per quanto riguarda il Forex, Euro-Dollaro si sta mantenendo sugli stessi livelli di ieri sera, quindi sempre in area 1,12,60. Lievi progressi per i cross Euro-Yen, sempre sopra i 128 Yen ed Euro-Sterlina, che ora si trova in area 0,85,20. Ed ora chiudiamo con il contributo a cura di Carlo Vallotto e dalla sua visione sull'argento. Salve a tutti per le interviste di Traderlink, ospite di oggi Carlo Vallotto, comodi di trader, per dare uno sguardo al mondo dell'argento. Cosa sta succedendo? Sì, Rossana, hai detto bene cosa sta succedendo nell'argento. L'argento, che vediamo subito il grafico, insomma sta attendendo un po' anche esso le decisioni della Banca Centrale Americana. Non tanto quelle che ci saranno nella giornata di oggi, si pensa ad un tapering anticipato, ovvero un rallentamento negli acquisti da parte della Banca Centrale Americana, quanto quelle che potrebbero essere le politiche sui tassi di 3 sul costo del denaro per il prossimo anno. Ora naturalmente le situazioni che si continuano a devolvere man mano, proprio questa settimana abbiamo 22 banche centrali che si riuniscono, abbiamo sentito la Banca Centrale Giapponese, la Banca Centrale Inglese, insomma un po' anche bacchettate dal Fondo Monetario Internazionale per cercare di accelerare quelli che sono il ritmo dell'aumento del costo del denaro. Tutto questo dovrebbe, utilizziamo il condizionale, dovrebbe essere favorevole per quanto riguarda il comparto dei metalli preziosi, che invece sembra un po' soffrire, insomma. L'argento che cede il livello di supporto a 22 dollari per oncia, un livello piuttosto importante perché lo vediamo insomma graficamente che è dal settembre dello scorso anno del 2020 che continua a fornire un supporto, vediamo come ogni volta sia risalito da questi livelli qua. Oggi proprio le quotazioni odierne vediamo come appunto si ferma al di sotto del livello proprio chiave dei 22 dollari e questo insomma potrebbe essere un'indicazione tendenzialmente negativa. Livello di resistenza 28 dollari, 28 dollari e 50 che non è stato superato, anche esso appunto vediamo ormai questo lunghissimo trading range, tuttavia diciamo che il fattore chiave è la lettura al di sotto, i valori al di sotto della media mobile a 200 periodi potrebbero insomma ecco aver influenzato negativamente gli operatori che ancora oggi non vedono sia nell'argento e neppure l'oro che abbiamo visto essere sotto i 1800 dollari, questo bene rifugio, questo bene a protezione dell'inflazione, cosa che appunto sempre i metalli preziosi hanno svolto egregiamente, ecco in questo momento sembrerebbero a mio avviso un po' sottovalutati. Quindi credo che sia una situazione, ormai siamo a fine anno e quindi non penso che ci siano grandi modifiche, insomma poi le grandi banche d'affari, i fondi di investimento tendono a chiudere le posizioni proprio in virtù di evitare eventuali magari movimenti bruschi e improvvisi durante le vacanze e i momenti di minor liquidità e quindi credo che al momento insomma l'area dei 22 dollari potrà essere attentamente osservata proprio per cercare di comprendere se ci sarà un rimbalzo dell'argento oppure se torneremo giù a rivedere i 21 dollari o addirittura l'area dei 20 dollari. Perfetto Carlo, io ti ringrazio per le indicazioni, con te rimando l'appuntamento alla prossima settimana. Si chiude così l'edizione di oggi, vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi ricordo che per rimanere sempre informati e per consultare tutti i contenuti potete iscrivervi al canale YouTube di Traderlink oppure visitare Traderlink web o sulla nostra app. Arrivederci, a domani.